live social amici di live social ben trovati ancora sulle frequenze di radio news 24 io sono Giancarlo e abbiamo in linea con noi Maria Grazia per ascoltare la sua storia ciao Maria Grazia buongiorno buongiorno ciao ciao Maria Grazia allora con Maria Grazia oggi andiamo a parlare di agricoltura che bello raccomento è sempre davvero un piacere parlare di questo tipo di attività appunto e parliamo di vendita diretta online di agrumi e di olio extravergine di oliva biologico giusto Maria Grazia? esatto allora parlaci ancora anche della tua azienda come è nata qual è stata beh noi quindi la nostra è un'azienda familiare che nasce diciamo già con mio padre e io prendo l'era di circa 30 anni fa dopo la laurea in agraria una grande passione per il biologico quindi inizio a fare un'attività appunto esclusivamente biologica con produzione prima delle aziende di mio padre che si sono ingrandizze insomma adesso siamo arrivati a 40 ettari di agrumeto e di oliveto e parte di oliveto e abbiamo anche incominciato una bella esperienza con l'online perché appunto la gente comincia anche ad avere il piacere di avere a casa la merce biologica e ovviamente avendo un prodotto monoprodotto chiaramente non è il nostro business in più flortante però perché poi noi diciamo facciamo un commercio un commercio a distributori però è chiaro che è una bella fetta di mercato che sta incominciando a svilupparsi soprattutto sull'olio extravergine di oliva perché poi il nostro è un prodotto di nicchia un bel prodotto di qualità perché è raccolto molto precocemente con una qualità eccellente veramente eccellente perché è un mono varietale tutta nocellare stellea prodotto di Sicilia insomma è un prodotto veramente buono ecco che caratteristiche ha quest'olio appunto? appunto le caratteristiche dell'olio di questo questo olio è un olio molto pregiato in quanto è raccolto molto presto monovarietale quindi varietà nocellare dell'Etna che ha anche un IGP un bassissimo grado di acidità quindi diciamo un prodotto che al palato risulta veramente eccellente ovviamente ha tutte le caratteristiche di naturalità che derivano dal fatto che non si utilizza nulla di antiparassitari e null'altro ha una fragranza molto importante che è quella che gli dà l'Etna diciamo infatti è appunto la varietà e la nocetà dell'Etna quindi insomma è un prodotto veramente buono certo immagino quindi voi siete poco vicino all'Etna del Catanese giusto? sì noi siamo sì praticamente dalla nostra azienda si vede una bellissima Etina perché siamo proprio sotto paternò delle zone di centuripe paternò e quindi sì sì e quindi oltre all'olio poi c'è anche la produzione di agrumi no? poi abbiamo la grossissima fetta la nostra grossa fetta di produzione appunto sono gli agrumi che sono diciamo il nostro fiore all'occhiello in un certo senso perché siamo appunto IGP agrumi arancia rossa di Sicilia IGP anche quella e quello facciamo ovviamente tutta la produzione biologica molto molto ricercata sul mercato in quanto appunto 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 il nostro è la nostra diciamo punta di diamante in quanto appunto l'arancia rossa diciamo c'è parte del distretto del distretto di Sicilia distretto agrumi e soprattutto degli IGP arancia rossa di Sicilia quindi con il sanguinello che sono varietà che produciamo solamente noi in Sicilia appunto perché siamo alle pendici dell'Etna che bello davvero complimenti Maria grazie quindi con la distribuzione siete organizzati praticamente in tutta Italia arrivate giusto? sì la distribuzione diciamo che noi facciamo la distribuzione all'ingrosso in Italia ma anche parte all'estero poi per quanto riguarda la distribuzione online la facciamo solo in Italia perché purtroppo sulle range la distribuzione all'estero online è un po' più complicata soprattutto per quanto riguarda la logistica e la consegna all'estero diventa più onerosa e quindi diciamo il prodotto non lo regge mentre sull'olio lo regge un po' di più quindi vi eravate già organizzati abbastanza bene sulla vendita online che adesso in questo periodo tra l'altro è diventata anche abbastanza importante sì in questo periodo particolarmente importante noi siamo già un po' alla fine della commercializzazione perché la nostra è un prodotto di stagione che segue la stagionalità e quindi siamo un po' alla fine però certo in questo periodo si è anche aumentata molto la richiesta del prodotto online sicuramente va bene ma ragazze è stato davvero un piacere parlare con te della vostra azienda agricola e dei vostri prodotti ci avete messo anche un po' di appetito a questo punto assolutamente va bene ti ringraziamo per questo diamo anche i tuoi contatti così le persone magari possono contattarti per avere maggiori notizie maggiori informazioni sulla tua azienda e perché no anche sulla modalità di acquisto online di cui abbiamo parlato giusto? sì assicuramente vai il sito web per esempio? il sito web è www.bioazienda.it cos'altro? e poi abbiamo una pagina facebook? instagram? no tutto sul sito si trova tutto sul sito perfetto ok allora quindi dal sito possiamo prendere tutti i contatti ringraziamo ancora ma ragazzi è stato davvero un grande piacere parlare con te della tua azienda appunto e dei vostri prodotti complimenti davvero grazie a voi un saluto con un abbraccio grazie ciao ragazzi buona giornata amici di live social quante storie e quante interviste anche per ascoltare live social live social Grazie a tutti.